È pronta a partire in Veneto la campagna vaccinale per l'offerta della quarta dose anti-covid al fine di rafforzare la protezione nei confronti del virus negli ultraottantenni, degli ultra sessantenni fragili, degli ospiti, dei presidi residenziali per anziani. Già da domani si partirà con gli ultraottantenni, con le strutture residenziali a stretto giro con gli ultra sessantenni fragili. Al vaccino si può accedere presentandosi direttamente ai centri vaccinali attivi della propria ULS prenotando attraverso la piattaforma regionale unica vaccini covid.regione.veneto.it con le stesse modalità utilizzate per la somministrazione delle precedenti. Il vaccino potrà essere effettuato anche rivolgendosi ai medici di famiglia aderenti alla campagna. I centri operativi e gli orari di apertura sono consultabili presso la propria ULS o sui siti aziendali. Grazie.